Le sirene laceravano l'aria nera con il loro ondolare straziante, sulla finestra il ghiaccio aveva riscritto inetti indecifrabili geroglifici. Era di nuovo l'allarme grande, gli alleati sembravano preferire la notte per i loro bombardamenti, correvano meno pericoli di essere centrati dalla contraerea, alti sopra i razzi illuminanti che scendevano piano con il loro paracadute verso i tezzi alle strade della città atterrita. Il cupo rombo dei motori, poderoso, uniforme, riempiva il cielo e da sotto i fari tagliavano l'aria, alla ricerca di quegli enormi calabroni. Le traccianti salivano velocissime nel cielo, pur nelle strade di persone atterrite. Svegliare i bambini, verificare rapidamente in modo convulso che i loro cappotti fossero chiusi, che avessero le cuffie di lane, prendere in bracci più piccoli, che piangevano svegliati, senza grazia, in quel frassuono pauroso. Tutti ricorsi in fondo all'orto, gli scalini della trincea, scendere sotto terra, rannicchiarsi in un mucchio per combattere il freddo e la paura. Anitta era stata convocata in Giardin Grande, nella sede dell'SD, l'organismo che aveva effettuato l'arresto di Beniamino. Era andata accompagnata dalla signora Vidussi, nata in Austria e quindi madrelingua tedesca. Anitta aveva paura. All'entrata difesa da soldati armati, la Vidussi si era presentata a parlare tedesco. Erano state trattate con il massimo riguardo e, dopo una brevissima telefonata, accompagnate da un'ontofizia, al primo piano attraverso scale e corridoi luminosi. Il sole entrava libero dalle grandi vetrate. Anitta seguiva la Vidussi, palida e incerta. L'ontofizia si era fermata davanti a una porta chiusa. Il capitano l'aveva fatta accomodare su due sedie. Era diventato serio. Aveva aperto un fascicolo. Rivolgendosi all'anitta, aveva parlato in un italiano gutturale ed elementare, ma comprensibile. Queste signora Feruglio sono chiavi di ufficio di marito. Lui andare in Germania, in campo di lavoro. Lui tornare voi, quando Kuversa, Krieg, Gouver, finita con nostra vittoria. Si era alzato, aveva tese il braccio del saluto nazista, dicendo a voce alta, Heil Hitler, aveva accompagnato alla porta le due donne e le aveva salutate con un rigido inchino appena accennato. L'avevano saputo neanche un'ora prima. Una guardia carceraria, passando cella per cella, aveva raccomandato a tutti di preparare le loro cose. Non c'era più modo di scrivere a casa, di ricevere viveri e vestiario. Il calcere risuonava di ordini, di urla, di scarponi militari. Aperte le celle, tutti inquadrati in file di cinque, con in mano poche cose. Un appello veloce, i nomi letti e spuntati dalle oberie fraete, sotto il controllo attento di un ober lontano delle SS. Quando i due si erano allontanati, la guardia aveva detto al primo della fila. Sarete negli ultimi due carri. La porta sarà chiusa male. Aprila. Il treno fuori Udine rallenterà a passo Duomo per un chilometro. Buttati. Passaparola. Subito. Erano usciti dal carcere in colonna, circondati da SS con le armi imbracciate. La città vuota. Nessuno li vedeva andar via. La neve trucchiava sotto i loro passi. Nella stazione c'era il caos. In qualche modo la notizia si era diffusa, e una folla di donne urlanti cercava di rompere il blocco dei soldati attorno al treno, per trovare i loro uomini, dar loro un cappotto, un pacco, un paio di scarponi. L'auberle e un tant aveva gridato un ordine, e i mitra avevano straziato il cielo buio. Nel silenzio che ne era seguito sedivano lo scalpiccio dei prigionieri e i comandi in tedesco, sfidando il pericolo dei bombardieri, ma non era in corso alcuna allarme. I pochi fari riparati della stazione erano stati accesi. Nella luce cruda le donne erano trattenute da una fila di soldati. I carcerati salivano sugli ultimi due carri bestiame. Gli altri erano già stati caricati chissà dove. Le porte venivano chiuse con fragori metallici. Un carro ogni quattro aveva una garitta con un soldato armato. Ancora comandi, poi il lungo trillare di fischietto, il primo sbuffo della locomotiva. Un lungo fischio e il treno, cigolando, si era avviato. I fari si erano subito spenti. Un lungo fischio e il treno,